buongiorno io sono vincenzo questo dove siete il 69 bar sales service di corso matteotti e chieri presente dal settembre del 2014 pronto a offrirvi dalle colazioni al pranzo con effetto sales service scorrendo col vassoio nella nostra tavola calda adesso siamo presenti con asporto e delivery come la situazione ci permette buongiorno a tutti allora per questa fiera di san martino un po diversa dal solito quindi digitale e diffusa abbiamo deciso di creare un menù dando importanza ai prodotti del nostro territorio e quindi negli antipassi abbiamo deciso di introdurre i caponet che sono dei classici involtini di verza ripieni di carne tipici della tradizione piemontese i famosissimi peperoni con la bagna cauda e l'antipasto piemontese in agrodolce come primi abbiamo deciso di utilizzare un vino tipico chierese che è il freisa e quindi proponiamo un risotto con freisa e salsiccia e come secondi un spezzatino abrasato al vino rosso al vino barbera che è sempre tipico piemontese è accompagnato da delle cipolline in agrodolce che rimandano sempre alla tradizione piemontese tutto questo potete venirlo a ritirare presso di noi con il servizio d'asporto o se non potete possiamo raggiungervi noi con il nostro servizio a domicilio